Prima la partita del Presidente della Repubblica e poi quella di Pavia. L'agenda politica del capoluogo sarà scandita e condizionata dalle elezioni romane. Dopodiché si potrà finalmente affrontare il tagliando di metà mandato e stabilizzare una maggioranza fin troppo traballante nell'ultimo periodo. Toccherà ai tre segretari provinciali, di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, trovare un punto d'incontro. I fronti aperti sono diversi e a rischiare maggiormente sono i cosiddetti assessori tecnici, ovvero Mara Torti, che gestisce le deleghe al bilancio, Mariangela Singali, la cultura e Massimiliano Koch, l'urbanistica. Secondo fonti interne al Mezzabarba, due dei tre potrebbero essere sostituiti. Tensioni si registrano anche in Forza Italia, tra il referente provinciale Alessandro Cattaneo e il vice sindaco Antonio Bobbio Pallavicini. Ma attualmente il deputato forzista, come anticipato, è impegnato a Roma per le elezioni del Presidente della Repubblica. Altro aspetto da affrontare è l'ascesa di Fratelli d'Italia. Lo scorso weekend Luca Bianchini, che ha da poco lasciato la Lega, ha deciso di aderire al gruppo consigliere di Giorgia Meloni, portando a quattro il numero dei suoi consiglieri comunali, uno in più di Forza Italia. È evidente che Fratelli d'Italia, non avendo nemmeno un assessore ma solo la presidenza del Consiglio, possa decidere di far pesare i suoi nuovi numeri al Mezzabarba. Ma allo stato attuale si ragiona per ipotesi in attesa del vertice tra il sindaco e i partiti.